Musica E riecoci al Novelle Eve di Parigi, giusto in tempo per il finale della rivista. Queste sono le splendide ragazze del famoso balletto in bianco, per le quali molti turisti si sono ridotti al verde, da non confondere con quelle già viste del balletto in rosso, per le quali altrettanti turisti continuano ogni sera ad andare in bianco. Questa con la calza nera invece è una sigaraia. E questo giovanotto è un turista che non fuma. Oh, bravo! Oh, bravo! Iscriviti e orvi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti